Vi piacciono i gaccia RPG Fantasy? Bene, ne è appena uscito uno, oggi 8 settembre, e però ha una meccanica un po' particolare che potrebbe però incuriosirvi. Lo guardiamo dopo la sigla. Ciao ragazzi, sono Zerganti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di War Flipper. È un gioco strano, strano, ma che sto trovando estremamente divertente e tutto sommato mi sta veramente intrattenendo. Vedete, infatti, adesso qua siamo su una impostazione un po' particolare, perché lo sto giocando dal mio iPhone. Lo potete trovare sia in iOS sia in Android, ed è un miscuglio tra una grafica anime-manga, quindi con personaggi disegnati, con appunto anche l'anime-manga all'interno del gioco e della storia, e un po' pixelosa su quanto riguarda la base operativa. Ma non aspettatevi troppa roba, cioè è funzionale a quello che deve fare. Parla di questi mondi, vedete che è una sfera questa, questi mondi dove al loro interno vivono delle persone in ambienti particolari, differenti, e persone che vengono evocate o vengono sparate in questi diversi mondi trovano e affrontano delle avventure grazie a questi portali fatti a Flipper, questi portali ancestrali. Un personaggio, non vi dico la storia, ma giocando alla demo la capirete, un personaggio arriva in un altro mondo, loro riescono a sbloccare questo portale, e il loro sogno, quindi Hulk e i suoi compagni, questo personaggio che vedete, è quello di girare ed esplorare il mondo. Ogni personaggio ha una sua storia, un po' la Konosuba con tutti i suoi episodi di storia, capire da dove viene, dal mondo in cui viene, e loro girando per i vari mondi dovranno affrontare e risolvere le questioni sospeso di questi mondi specifici, ognuno a tema. Vi faccio subito vedere il gameplay. Così poi andiamo a vedere i personaggi, andiamo a vedere le pull, andiamo a vedere tutte quelle altre cose e le abilità. Ma prima vi voglio farvi vedere un gameplay. Per farvi vedere un gameplay, devo andare per forza nei vari mondi. Vedete che i mondi sono sferici, sono con dei biomi differenti. Io ho completato già tutto il mondo 1 in main, ora lo voglio completare in hex, che è quello più difficile. Questo è il capitolo, vedete, ogni volta che voi andate nel capitolo, abbiamo una stamina da consumare, che è in alto a sinistra, a destra sono le sfere arcobalino, quelle che ci servono per i pull, poi le andremo a vedere, e la ricompensa che sono 25 di quelle sferette laddove noi completassimo la missione. Vedete, inoltre abbiamo questi tipi di rewards, ci verrà dato un personaggio, i personaggi vanno da livello 1 stella a 5 stelle, anche se voi dropperete pullando di fatto 3, 4 e 5 stelle, e armi e oggetti. In più ci sono dei vari score, in base al punteggio che faremo, avremo una valutazione che va da C, A, S+, Quindi noi andiamo, affronteremo questo, questo è il mio team, team da 3, ognuno con un equipaggiamento arma, e ognuno con uno che li va a aiutare, quindi con un personaggio che potete metterli, che lo vada ad aumentare i suoi, ad aumentare la sua potenza. Io posso chiaramente fare il party come preferisco io, sostituendo tra il mio pool di personaggi, e in più posso selezionare ogni personaggio, e vedere cosa fa, oltre che level apparlo. Lui è il personaggio principale, si chiama Hulk, è un star hopper, vedete che ha HP, l'elemento, l'attacco e la classe. Sono solo due variabili, attacco e vita, questo facilita moltissimo. In più c'è la sua skill, hanno solo una skill, la skill quando si riempie lo vedrete, ed è una preview, potete vedere la sua preview di ogni personaggio. Se lo mettete come leader ha questa abilità, inoltre ha delle abilità che potete sbloccare voi, tipo sferografia, che poi andremo a vedere, qual è la sua razza, qual è il suo gender, e qual è il suo voice actor, Ryota Osaka. È scritto in coreano, perché dovrebbe essere che la Khao Games dovrebbe essere coreana. Comunque voi potete modificare il vostro party, facendo edit, potete fare o manualmente, oppure chiedendo il raccomandato su tutti i vari elementi. I vari elementi poi li andremo a vedere, comunque sono fuoco, aria, acqua, tuono, luce e oscurità, se non dico una cavolata. Sì, e vedete in alto a sinistra, un po' piccolino sotto l'ora, c'è l'albero delle debolezze, quindi fuoco batte aria, aria batte tono, tono batte acqua, acqua batte fuoco, e oscurità e luce, chiaramente si influenzano vicenda. Ora, vedrete il flipper, perché di fatto è quello. Siamo in questa ambientazione, noi partiamo, collezionando, cercando di collezionare anche le gemme, e il primo step, normalmente della prima missione, è quella di riuscire a sconfiggere abbastanza nemici per passare alla zona dopo. Non è estremamente complicato, soprattutto se poi voi avete livellato un po' i vostri personaggi, chiaramente che hanno dei vari livelli e un cap, ma, se vedete che si riempiono, più colpiamo, più facciamo combo, più cambia il colore delle nostre barrette, che permette ai nostri personaggi di fare più danni delle abilità speciali. Le abilità speciali sono quelle che stanno tintinnando, vedete, in verticale, orizzontale, destra e sinistra. Ad esempio, ora sono qua, swipe up per l'abilità del personaggio, swipe a destra e swipe a sinistra, e io sto performando le abilità dei miei personaggi. Lì c'era un simbolino che diceva di colpire un determinato punto di quel boss, poiché avremmo rotto la sua difesa. Ho preso un'altra abilità che mi dà dei boost dell'attacco, ad esempio, di questo personaggio. Vedete che sotto i nomi dei personaggi sono apparsi delle statistiche in più, quindi con aumento dell'attacco in questo caso. Ora, lui non è proprio leggerissimo, anche perché è un X, è come giocare in hard mode, per dire, avete fatto la storia normale, io la sto facendo in hard mode in questo momento. Non mi... Ok. Dovrei esserci quasi. Vedete, devo colpirlo dietro per romperlo. Ah! Ok. Ci sono quasi. E in X è un po' più complesso. Dovremmo aver vinto. Ok. Abbiamo fatto un punteggio, ci abbiamo messo un tot tempo. Quello è un draghetto che parte, ma quello è un altro discorso. È una subabilità. E ora avremo il nostro score, il nostro punteggio e la nostra ricompensa. Sempre... Io, ragazzi, ho la connessione di Topolino, ve lo assicuro. Nonostante abbiamo messo in modalità aereo, è terribile. Ci mette ogni tanto un po' tanto. Però, è molto carino sto gioco, perché a parte essere molto scaccia pensieri, cioè, senza troppo impegnazione... Cioè, non è troppo impegnativo da un certo punto di vista. Lo trovo molto colorato, molto... molto anime. Vedete, abbiamo preso... Abbiamo colpito un punto debole 50 volte, abbiamo ottenuto delle missioni, delle rewards, ho preso S+, mi si è bloccato, mannaggia, ok? E i miei personaggi salgono di livello. Salgono sia i personaggi attivi, sia quelli secondari. E qua abbiamo tutto quello che abbiamo fatto come punteggio. È un piccolo nuovo record per quanto riguarda la nostra storia. Nostre ricompense. Prima volta che l'abbiamo fatto e il bonus per aver fatto in S+. Quindi 25 più 25 sono un dignitoso 50 ricompense. Una volta che abbiamo fatto questo, andiamo a vedere un po' di più nell'insieme, il gioco, nella sua completezza. Quindi abbiamo parte delle missioni in basso a destra, abbiamo le daily, abbiamo le regular e abbiamo quelle degli eventi. Gli eventi si sbloccano una volta che voi fate il primo mondo col boss finale. E poi, una volta che voi avete affrontato un boss, potete rifare questi boss nelle boss challenges. Io ad esempio ho fatto Viento Solas e Ragitare. potete farle in Coop, quindi non siete per forza costretti a farle in solo, anche perché sono molto dure. Potete farle in solo o potete farla in Coop. Avete 3 boost giornalieri per incrementare la rewards dei vostri boss. Io l'attivo, ma vi assicuro che attualmente è molto complicato riuscire ad andare a giocare online con altre persone. Un po' perché adesso invece mi smentirà. Un po' perché è uscito ancora oggi, un po' perché sapete, day one, quindi ci possono essere un po' di problematiche. Voi avete comunque la room number, quindi il numero che avete in basso che potete dare ai vostri amici per unirvi a voi. Avete anche il tasto share. E invece si stanno unendo. C'è gente che si unisce. Shiro? Dai, che forse riusciamo a farla una comp. Per il video sarebbe meraviglioso. E, appunto, si uniranno e avrete il loro team fantasma. Cioè, sarete in nove, di fatto. Però voi vedrete in attivo solo il vostro. Si va, let's go! Ah no, lei vuole partire in due. Aspettiamo un attimo il terzo. E sconfiggendolo chiaramente avrete delle altre, delle ricompense maggiori, dei coins che poi potrete scambiare nel negozio per ottenere delle ricompense esclusive. Inoltre io qua gli dico wait, posso comunicare con lui. Oppure gli posso dire let's go. Aspettiamo in cinque, quattro, tre, due, uno, let's go. Da start, andiamo in due, chi se ne frega, lo tiriamo giù uguale. Questo è il boss, è il boss del primo mondo. Una cosa particolare che non vi ho detto è che voi potete dare un secondo tap mentre siete in volo per direzionare anche il personaggio in aria quando è su. Ok, verrà un casino, vi sembrerà un casino? È un po' complesso, la verità è quello, però lo trovo molto divertente. Ok, vedete che lei ha l'altro personaggio che è un po' più ghost, che anche lei sta usando e sta colpendo. Ah no, ho sbagliato, la direzione. Comunque gli facciamo pochi danni, però si stanno caricando tantissimo le mie barrettine. Queste bene. Oh, la madonna! Ero enorme. Tra poco possiamo usare le abilità. Eccoci qua, le carichiamo tutte, aspettiamo un attimo. Ok, ancora una. E ora attivo tutto anch'io. vai con i miei boost. Anche perché il mio personaggio principale stava morendo, poverino. Cioè, era veramente in una situazione terribile, aveva preso una marea di schiaffi. Ma dici, ma come fa a prendere schiaffi se è un gioco di flipper? Vedete che i proiettili che lanciano i nemici e i mostri, comunque, se colpiscono i nostri personaggi, gli fanno danno, gli implicano dei danni. Quindi, non è che sono immuni, anzi, bisogna stare molto attenti da quel punto di vista. Ok, io qua stavo tirando delle buone botte. Non so lei che come è messa, però stiamo, stiamo, lei sta andando in ulti? Io non ce li ho le ulti, onestamente. Sono ancora un po' indietro. Ok. Mi sto caricando. Dovrei quasi esserci. Ok, ci sono. Avrei dovuto forse aspettare un pelo, perché ce l'ha da romperli punti deboli, ma vabbè. A volte dovete stare attenti alle direzioni dove usate le vostre abilità, ma l'abbiamo battuto, anche se eravamo solo in due. Non penso sia stato S+, non credo. Però ci voglio credere, ci voglio sperare. I caricamenti di topolino, ma è colpa mia, è la mia connessione, ragazzi, non è il gioco che così se giocassi col 4G mi ammazzerebbero di messaggi telefonate, ma sarebbe da questo punto di vista un pochettino più fluido. Devo ancora provarlo su Bluestack, vi dico la verità, sull'emulatore per PC di Android. Lo proverò subito dopo. Non penso che la dimensione dello schermo cambi, perché d'altronde è questa la sua direzione. Uh, dashter per 300 times, evviva. Ha fatto il doppio dei miei danni. Ok, va bene, Shiro. Però abbiamo fatto S+, e vai, in più ho la recompensa boostata, io salgo di livello. Ho fatto il botto, la miseria! Ho fatto il botto, raga, ho fatto il botto, ho sfondato, ho svoltato, raga. Madonna quanti coin. Following. E potete followare, potete followare le persone che vi aiutano. Non c'è il sistema di amicizia, c'è il sistema di follow. Ok, adesso possiamo andare allo shop per dirvi, e dire, posso scambiare, oltre che, vabbè, dei coupon e i bundle marketplace, potete cambiare i boss coin. Cioè, voi fate i boss e una volta che avete i boss con i coin, potete scambiarli con qualcosa. Ad esempio, in questo caso, potrei scambiarli, ne ho 32 di argento, e potrei scambiarli o con dei cristalli oppure con un'arma. Io, in questo caso, Calamity Blade, farei, per le Wind Units, io la prenderei, perché non ho armi. Poi andiamo a equipaggiare ai nostri vari personaggi. Ora andiamo alle pool, la parte che vi interessa probabilmente di più. Ora io poi, quando vado in un personaggio, vado a fare edit, ad esempio, lui ora è equipaggiato con quell'arma lì, lei, la equipaggiamo con la Claymore, la nuova, mentre a lui, a questo punto, gli mettiamo The World, e così siamo a posto e abbiamo una roba un po' più dignitosa. I banner si suddividono in banner army e banner personaggi. Armament Portal è il banner army, se guardate i raids vi viene detto cosa potete trovare di 5 stelle, e le percentuali sono in alto, 5%, 25%, 70%, e potete selezionarli e vederle molto facilmente da questo punto di vista. Se no, invece avete il banner personaggi che in questo momento ha come boost il Gala Portal e vedete che però le pool da 10 vi garantiscono un personaggio da 4 o da 5 e vi stanno facendo vedere a schermo i personaggi in rate up. Attualmente ve lo dico i personaggi più forti sono Celti, Razel, Byron, Clarice e Piria. Sono i top tier, ve lo dico già, poi vi dico anche il reroll anche se mi sta sulle palle. Potete fare una pool da 10 o delle pool più piccole? Io in questo momento pool da 10 purtroppo e potete fare una volta per giorno una pagando di quelle pagate da 50. Io in questo momento pool da 10 purtroppo non ne posso fare, l'ho fatta nel video precedente, non è uscito niente perché questo non è il primo video chiaramente che registro ma possiamo fare delle pool normali. Vedete nei raids comunque abbiamo il 5% dei 5 stelle tra questi 5 stelle possono uscire questi poi abbiamo il 25 e dei 3 stelle e possono uscire questi e poi vabbè i 3 stelle chiaramente vi danno tutto l'esempio di varie 3 stelle possibili e immaginabili mentre per questi sono i normal slot mentre per i 4 star esclusive slot questo vuol dire che quando utilizzate i ticket ci sono dei ticket specifici che sono per 4 o 5 star pool da questi potete trovare questi personaggi qui ok questi li troverete poi puliamo il pool è davvero carino lo trovo carino davvero potete pullare un personaggio da 3 4 e 5 in base al suo colore ad esempio questo è un personaggio di stelle dovrebbe essere 3 stelle infatti ma per avere il 5 stelle non penso di aver la possibilità di farvelo vedere in questo pool perché non sono così fortunato ma è tipo Peggle lui deve cadere e colpire determinate zone e queste zone che lui va a colpire ne aumentano la sua rarità di volta in volta e infatti a me è capitato di prendere e colpire di questi simbolini e avere il personaggio aumentato di grado perché il motivo è lì Shirano e ho ancora una pool purtroppo amarezza fortissima è andata come è andata magari riesco a recuperare la parte dell'altro video ah no no ne abbiamo uno dorato dai almeno un 4 stelle e lo prendiamo Alice chiaramente presa da Alice nel paese delle naviglie che non l'abbiamo mai vista non posso fare ulteriori pool ora andiamo a vedere i personaggi singoli i personaggi singoli si può aumentare il loro livello grazie a quelle palline ah i soldi sono quelli in alto i mana si chiamano sono quelli verdi ok giusto per essere tranquilli vedete possiamo fare editare il party fare rise level possiamo aumentare il livello del nostro personaggio quindi ad esempio prendiamo il personaggio base che è il nostro Hulk che è il nostro principale e lo usiamo per aumentare il livello l'abbiamo portato a livello 14 poi ci sono dei personaggi che se noi troviamo più volte possiamo uncappare ovvero loro hanno un cap di livello massimo in base alla loro realità abbiamo trovato questo personaggio più di una volta di conseguenza lui ha un level cap essendo un 4 stelle fino al 70 se io ne infondo un altro al suo interno lo aumenterò al 75 credo di 5 infatti aumenterà di 75 gli aumenteranno le statistiche base di 1.5 in questo caso i personaggi che hanno vedete Alice è nuova ad esempio no non era nuova l'avevo già trovata quindi posso uncappare anche lei e anche lei passa a 75 chiaramente conviene uncappare i personaggi per n motivi sicuramente al di là del cap massimo del personaggio che potete insomma livellare potenziare anche per una questione dell'aumento delle stat base come potete vedere sui 3 stelle inferiore dovrebbe essere 0.8 se non dico un'eresia e infatti è 0.8 comunque vi da una base maggiore per il personaggio che poi voi andrete a utilizzare poi mana board mana board è la possibilità di andare ad aumentare le abilità e l'avventura di un vario personaggio quindi scoprire il suo personaggio che cosa vuol dire che se noi andiamo su ad esempio in questo momento noi utilizziamo lei abbiamo tipo sferografia vedete questo è tutto il suo percorso che possono essere dai le abilità più grandi come numero abilità vedete abilità un numero un'abilità nuova ha dei potenziamenti di quelle abilità enanza ability number 3 oppure oppure i libri di storia perché ogni personaggio ha una sua storia come konosuba è uguale quindi faccio unlock a parte avere sbloccato un obiettivo e io poi posso vedermi l'obiettivo la storia di questo personaggio nel suo mondo con le sue ambientazioni vederla come konosuba ci dà una reward quindi ci dà delle ricompense in stelline la cosa che io più adoro al di là che vabbè ora stella andrà a parlare con me il sene esatto io sono uno che schippa io non c'è verserac sono uno che schippa e questo gioco ha capito che noi che schippiamo abbiamo bisogno di un riassuntino e basta lei pianta un pochettino di germogli nel posto di starbio e invita stella ad arampicarsi sugli alberi quando saranno cresciuti in 300 anni dopo che le ricorda che gli umani non vivono così a lungo quanto gli elfi melcele promette alla amica promette promette di essere amica ai suoi discendenti grazie l'ho capito l'ho letto e un attimo io sono uno che schippa scusate ma schippatori del mondo unitevi questa è una figata che dovrebbero fare tutti i giochi di quel tipo lì chiaramente Genshin non si può però per capirci ok una volta che io ho sbloccato il primo tratto posso sbloccare la sua prima abilità con le ricompense vedete quei materiali che io vado a fare nelle mie avventure nei miei giochi unlock e lei sblocca la sua abilità aumenta il buff da se stessa che bello mi piace troppo lo stile artistico learnability 1 7.5 di hp buffa se stessa si aumenta gli hp del 7.5 in più possiamo potenziare questa abilità andando avanti dando ancora abilità potenziando l'abilità 1 che poi ci apre vari path per varie altre abilità questo lo potete fare con bene o male tutti i personaggi inoltre abbiamo gli armamenti ovvero le armi equipaggiare le armi che poi vanno chiaramente a influenzare più armi avete più è potente come fare le raffinazioni ok quindi c'è un numerino in basso vedete tipo la prima spada ce ne ho due no è raffinata due volte chiamiamola così andiamo a vedere le ultime cose che sono appunto gli eventi gli eventi sono daily quest che potete fare per ottenere i materiali di ogni elemento fate le daily quest di fuoco le daily quest di acqua di tuono eccetera per potenziare i vari personaggi nel loro world e in più avete l'ultima che è quella invece di exp e mana che è completata la prima volta set di stamina per poterla fare la stamina io sono pieno ci dà un boost di appunto sia di come si dice sia di energy di soldi sia di exp ci danno le animelle per fare exp prima clear e ci dà delle ricompense signori che dire questo era world flipper io spero che vi sia piaciuto spero che sia un gioco che possa interessarvi personalmente lo trovo molto carino molto carino e nella sua semplicità interessante poi ovvio vi devono piacere i gaccia vi deve piacere il flipper un minimo vi deve piacere il tipo di struttura anche di grafica però ha delle buone potenzialità per quanto mi riguarda i ragazzi vi ringrazio vi invito a iscrivervi se non avete ancora fatto lasciarmi un like a seguirmi anche su tutti i miei altri social vi ricordo che sono live lunedì, mercoledì e venerdì però questa settimana è stata un po' così settimana prossima addirittura forse saremo live quasi tutti i giorni quindi è un periodo un po' di complicata di complicanza data al trasloco però inoltre vi invito comunque a seguirmi su Instagram così lì sapete se ci sono delle variazioni nella programmazione e vi auguro una buona serata United State of Zerga ciao belli